I cinque minuti più lunghi della storia, eh? Mezz'ora per parteggiare, cos'è il guidi in freccia rossa? Scusami, veramente, c'era tantissimo traffico. Senti, il cliente è già arrivato e su... Lo ha chiamato, viene il pomeriggio. È andata bene. Ah. Ho preso sei rossi per... Sì, di cui uno in faccia, tesoro. Non so se sbattuto, saranno i vestiti, il viso. È mattino, sembri fine giornata. Perché non sciogli i capelli? C'è l'acqua fredda e non ho risciacquato il shampoo. Sì. Perché non ti fai dare un consiglio dalle nostre splendide ragazze, eh? Sì. Ti aspetto in ufficio? Sì.